E tu cosa ne pensi della partita Luca? C'è modo e modo per ottenere una vittoria, farlo giocando bene è importante soprattutto per l'allenatore. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo, grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.